Il grappa introvabile, la denuncia, segnaletica inesistente, noi siamo andati a verificare. Etica inesistente, ora andiamo sul grappa perché come segnalato da molti avventori, turisti e ciclisti, la segnaletica per orientarsi non è affatto chiara per non dire inesistente. Abbiamo fatto un viaggio dalla redazione fino alla prima indicazione utile, impossibile orientarsi. Tra pochissimo cadrà il centenario del grappa e in città sono attese centinaia di persone. Sarà un momento per ricordare e celebrare il Monte Carola Patria, simbolo di questa terra dell'orgoglio, della memoria. Ma dov'è il grappa? Il Monte Sacro rischia per molti di rimanere soltanto una meta lontana, sì perché non esiste per indicarlo alcun cartello stradale. Da quello che mi risulta, il punto dove parte l'indicazione è al passaggio livello lì in località Cassette. Da lì c'è l'indicazione Cimagrappa. Prima non è vero, mi sembra che non ce ne siano. Per chi viene da Campese, attraversa Viale Scalabrini e impegna il Ponte Nuovo, nessuna indicazione. Andiamo avanti, percorriamo via 11 febbraio. Arriviamo a Viale delle Fosse, ancora niente. Monte Carola è un po' vicino, o no? Ma più o meno dove? Sono un ciclista e lo faccio due volte alla settimana. Però devo dire che c'è una strada pessima, è un'indicazione pessima e soprattutto in via Roma Romano Dezzelino ci sono delle buche che i ciclisti potrebbero farsi male a cadere. Qui in Viale delle Fosse non c'è nulla, uno non sa dove andare? No, assolutamente no, neanche uscendo dalla superstrada alla tangenziale. Da qua no. Quindi tu non sapresti dove andare? No. E da qui come si raggiunge il Monte Grappa? Ehm, no. Siamo alle porte della città ma non c'è nessuna indicazione che possa aiutare un turista a sapere di dover andare a destra o a sinistra per raggiungere il Monte Grappa. La prima vera indicazione è qui, al semaforo di Cassette, ma è visibile soltanto per chi arriva dalla statale, non per chi viene da Bassano, Treviso o Padova. Andiamo avanti ancora, inizia la strada provinciale Cadorna, ancora nessun cartello. Ecco il primo, è in via Roma, in entrambi i sensi di marcia, solo che quando il nostro avventore del Grappa arriva alla rotonda, dove andare? Ecco il paradosso, qualcuno ci ha pensato da sé.